Mi hanno proprio fatto arrabbiare oggi, mi prendo questa TNT e faccio esplodere tutti Fermati! No Ti prego Non puoi farmi esplodere! Non di nuovo Sì, invece, sono tornata verso un blocco di TNT No, no, no E tu mi devi aiutare a farmi crescere Questa è la TNT normalissima, non faccio crescere niente e nessuno Ma te sto parlando e mi stai anche sentendo No, aspettila Io me ne vado Torna qui Prega nulla, guarda Mi è bastata la scorsa volta col diamante Torna qui! Chi è? Torna qui! Torno io Fere Dove sei? C'è l'albero che ci distanza Ormai abbiamo imparato questa cosa L'abbiamo fatto Smetti di fare la vocina Ciao Fere Ciao Come stai oggi? Benissimo La smetti di fare la voce? E sto pronto per far esplodere tutto E ragazzi, come va? Io sono Fere, Nicky E sono Steffa, che si giocava a Minecraft Benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft In cui Steff dovrà aiutarmi questa volta a diventare una TNT fortissima Ah, quanto non mi piace Sei felice? No, non sono felice Perché sei felice, Steff? Fere, non fare quella vocina, ti giuro che mi irrita Ti accendo, ti faccio esplodere La finiamo qua la TNT No, non puoi Rispetto al diamante è più delicata E sai perché non puoi? Perché? Perché io non so come si fanno esplodere le cose, mio caro Steff E quindi tu sei qui per aiutarmi Perché sei ancora troppo piccola per sapere queste cose Esatto, sai com'è I bambini non è che si fanno maneggiare gli esplosivi Steff Anche se sei di TNT Quindi, cioè, sei nata per quello Comunque Non lo so fare Allora, questa volta la voglio proprio finire velocemente Perché ti sopporto ben poco quando sei in questi, diciamo Ecco, appunto, appunto Quello che stiamo dicendo Quindi spiegami velocemente di che cosa hai bisogno E Steff risolve tutto Allora, siccome io sono un piccolo piccolo baby Tu devi aiutarmi a craftare la mia prima TNT Perché io sono, sì, una TNT Ma non so come si possa fare una TNT di quelle vere che si fanno esplodere Perché sai com'è? Io sono vivo Quindi non è che posso esplodere Devo fare quella che tu ti usano Quindi praticamente mi stai chiedendo di farti capire come sei fatta Perché hai bisogno di conoscere te stessa per esplodere Una roba del genere Sì, più o meno Tu l'hai detto in modo un po' più filosofico e un po' più semplice E beh, ci ho provato Perché giustamente non capisco ancora tutti questi concetti Steff Parli già troppo strano Hai ragione Scusami, scusami, scusami Allora, quindi abbiamo una crafting table Devi sapere che per fare la TNT Apri pure la crafting table Ok Devi utilizzare la polvere da sparo e la sabbia E dove trovo la polvere da sparo e la sabbia? Allora, la polvere da sparo la trovi ammazzando i creeper Che sono praticamente i tuoi cugini sui gatti Ok Perché la TNT è la versione figa del creeper Ok Mentre la sabbia la trovi nelle spiagge Quindi vai lì, ti procuri una bella pala Vai nella spiaggia Come questa? Esatto, esatto, bravissima Prendile un po' Prendile un po', tranquilla Nel mentre io A mani nude Vai, 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 vai Comunque sappi che sei composta di polvere da sparo Ok, ok TNT la tua TNT Non so cosa ci devi fare ma non mi interessa È ovvio quello che ci devo fare Cosa devi fare? Allora, secondo te mi serve solo sapere come si fa Dobbiamo anche far esplodere la mia prima casa, Steph È normale La TNT ti serve a quello Quindi dobbiamo anche metterla in pratica E poi cosa ne so? Che tu sei un vero esperto di TNT Magari l'hai fatta guasta Magari non funziona Non cercare scuse per poterla provare Mi stai dicendo Che per crescere tu devi far esplodere un povero giocatore Esatto, se vuoi puoi essere tu No, 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 no Guarda, andiamo in giro Vieni con me, vieni con me Andiamo a cercare qualcun altro Perché non ho voglia di esplodere quest'oggi E poi io non ho neanche una casa, Ferre Ti informo che al momento sono senza La costruiamo, Steph La costruiamo No, non costruisco una cosa che poi esplode Vieni, vieni, vieni Troviamo qualcun altro da far esplodere Ecco, Ferre, ho trovato una casa Sei sicura di voler andare avanti? Sì, ma dai, cioè Allora Dimmi Io ho già intravisto Questa casa è talmente brutta Che merita di essere fatta esplodere Ferre, nulla merita di far esplodere Magari è scarso Poverino non c'entra nulla Allora, io provo a fartela vedere dentro Perché così magari ti viene voglia di cambiare idea Perché magari ti senti in colpa Guarda questo poverino Cioè, ha pochissime cose nella sua casa Non merita di esplodere, Ferre Non sa neanche dormire Sta dormendo al contrario Però, in effetti, è un po' Allora, sto player si merita di essere fatto esplodere Io te lo dico, eh Se lo merita Perché guarda, non sa neanche come dormire Non sa niente di Minecraft Mentre io so come si fanno le cose Bene Io so benissimo come si fanno Aspetta, me ne è data anche tanta Guarda, non so più dove mettermi L'ho fatto tutto, sì Ok Vado Vado Aspetta, devo capire dove la porta Perché sai com'è, molto pericoloso E non vorrei Lo so Rimanere anche io qui nell'esplosione Aiuto Scappa Sei soddisfatta? Sì Molto? Moltissimo Hai visto, hai visto com'è stato bello? Ma il player sta bene Crei il sopravvissuto Non si è fatto nulla Non si è fatto nulla Guarda, sta anche nuotando Non capisce neanche che gli è successo Però hai visto che è bella l'esplosione Mi sembra molto felice Ferre non è bella l'esplosione Le esplosioni non sono belle Le esplosioni sono pericolose Eccomi Steph Ci è voluto un po' È stata un po' faticosa Com'è crescita Però ce l'ho fatta Cioè Eri una cosetta tutta carina E sei diventata sto sgorbio Ferre ma sei cresciuta malissimo Senza affesa Queste sono le scale Che mi sono rimaste prima dalla casa Giusto per farti capire Però ti volevo far vedere questo Ferre Ti sto mostrando la mia abilità Mio caro Steph Qual è la tua abilità? Secondo te che cosa ho di infinito? Secondo te che cosa ho di infinito? Saprei i fiorellini? Non lo so Forse sono Allora in effetti Sì è un po' rossa Come il fiore Però non penso Che sia così Così tranquilla Steph Non dire mai più Che sono uno sgorbio Perché sono una tenete bellissima Nel fiorfiore dei miei anni Quindi smetto Vabbè vabbè No no Adesso muori Arrangiati Sono in game mode Ferre Non morirà mai Oh guarda che bello Il buco che abbiamo fatto Ferre non ti devi divertire A fare queste cose Comunque Sei antipatico Sei antipatico Già non ti sopportavo prima Ora che sei brutta È ancora peggio Dimmi di che cosa hai bisogno Per diventare un adulto Grande e grosso Così me ne posso tornare a casa Ma perché sei così scorbutico oggi? Ti faccio un regalo Guardati in faccia Ferre Tieni un altro regalo Guarda la mia prospettiva Ne vuoi un altro? No non ti piacciono Hai qualche altro regalo? Eh no Ok Solo le tasche piene di TNT Mi dispiace Vabbè vabbè Grazie Allora ovviamente abbiamo fatto esplodere una piccola casetta di un noob Perché tanto era un noob Ed è stato già Un crimine terribile Però il clou della mia super crescita Ok Dobbiamo fare esplodere un intero villaggio Mi sembra giusto Perché una casetta è poco Invece dobbiamo essere in grado Di fare esplodere un intero villaggio Sì Stef Villaggio Certo Intero Certo Tutto esploso Allora scusa Tu quando giochi a Minecraft Ok Cosa usi la TNT? Per far esplodere le case degli altri Ovvio Quindi più case fai esplodere Più diventi potente È normale Tu pensa se sei in un server pieno di giocatori Ok Se vuoi esplodere le case a tutti Tu diventi il re del server Ok Quindi io devo evitare il re della TNT Pisci Qua di fronte abbiamo trovato un villaggio Dovrebbe essere di villagers A me dispiace un po' Perché loro sono sempre tranquilli e sereni Però Se è l'unico modo per sbarattarmi di te Lo accetto Stef Devo mostrarti una cosa Che cosa hai ma Non ho mai visto quella TNT nel gioco Per l'occasione ho creato della Gold TNT Si chiama così Ok Dovrebbe far esplodere molto Molto di più Perché sai come ho notato Che questo villaggio È bello grande È normale Cioè ci mettiamo una vita Non è che voglio crescere tra 5 anni Voglio crescere oggi Quindi ho creato la Gold TNT Tu mi hai insegnato a creare la TNT È normale Quindi ovviamente Adesso ho imparato a fare anche tutti Hai sostituito la sabbia con il Gold E hai creato questa TNT Sì Sì Uh interessante Sono esperimenti che tu non sai fare Allora so che non dovrei dirlo Perché sono una TNT Però mi fai vedere Sì sono curiosa anche io Aspetta proviamo questa casa Perché non l'hai mai provata niente Tu l'hai appena creata Certo l'ha appena creata Potrebbe essere un totale fallimento Te lo dico Ok Aspetta scusa Beh Beh Non prende fuoco Beh C'è qualche problema A te Fa aiuto Come si accende Tu sei rispetto L'hai creata tu non lo so Come si accende Non me lo chiedere perché non ho idea l'hai creata tu Sono fatti tuoi Aiutami Non ti aiuterò mai Mi sa che hai capito come funziona Sì allora era un po' complicata Ci sono arrivata Dopo vuoi rivederne un'altra Sì Perché tanto adesso dobbiamo continuare Quindi vieni Sì Però dopodiché voglio un'esplosione unica Quindi Ok Fammi vedere giusto una volta Ok sei pronto Sì Mi raccomando Fai attenzione Io mi allontano Ti saldo al terreno Vai Vado Bella questa TNT Davvero bella Davvero davvero bella Mi inizia a far paura tu Io te lo dico Mi inizia a preoccupare Hai creato una TNT che è mostruosa C'è con due esplosioni E pensa cosa riuscirò a fare da adulto Steph È meglio non scoprirlo Io mi sa che sto distruggendo il mondo Aiutandoti a crescere Mi sa che sto facendo una roba Davvero terribile Troverai un altro mondo su cui Eh non volevo dire quello Niente mi stai aiutando a crescere Ok comunque Prepara tutto Sono pronta all'esplosione finale di questo villaggio Se non riuscirai a far esplodere tutte le case Ok Non ti potrai trasformare Ma come Quindi fai bene i tuoi calcoli cara mia È difficile qua È difficile Perché ce ne vuole tanta Lo so Però se sbagli Te l'ho detto Non potrai crescere Perché è l'ultima trasformazione di cui tu mi parli Io sono sicuro che non la raggiungono tutte le TNT Eh anche secondo me L'unico modo per meritarsela Anche della gold TNT Quindi anche questa secondo me È una trasformazione molto Sei già stata molto brava Sei già stata molto brava Però Il prossimo Traguardo è più difficile Io ti do un consiglio Secondo me questa torre Non la fai esplodere tutta Perché è troppo alta Dovresti salire sopra E metterne una anche dentro Volo allora Hai visto che capolavoro che ho creato? Se lo vuoi chiamare capolavoro Sei pronto? Eh Vado? Vai Fammi un 3, 2, 1 3, 2, 1 È esploso tutto? Aspetta però lì non c'è arrivato È stato un po' un fail Però scusami Se lo vuoi chiamare fail Non c'è più neanche la terra Non sono le case E io baro Lo so che lo devo fare in un colpo Ma io baro Hai disintegrato tutto Qua c'è un villaggio carino carino E guarda anche la torre Ce l'ho fatta a buttarla Aspetta aspetta scusa C'è l'ultimo innesco Dai Ok Ce l'ho fatta a buttarla giù Hai visto? Ma è tipo di braccioli per nuotare Fatti di TNT però La vedi questa? In testa a te la faccio esplodere Che cos'è quella roba? Non è più quella dorata È la TNT che farà esplodere tutto il mondo Mi sembra ovvio E cosa pensi che stavamo facendo qui oggi? Guardando gli uccellini Steph Dobbiamo far esplodere il mondo Stavo aiutando una persona Che faceva una vocina carina A crescere Adesso direi che me ne sono pentito Scusa tu hai aiutato a crescere Una TNT Cioè tu non solo mi hai fatto crescere Mi hai fatto arrivare al massimo livello di distruzione E mi sembra giusto che io da brava TNT Devo distruggere tutto Se non ne sono capace Vuol dire che ho fallito tutto nella mia vita Sono curioso di vedere cosa hai creato Vuoi vedere come funziona Perché non lo so neanche io Quindi potrebbe far esplodere tanto Come potrebbe essere un disastro Te lo ridico Allora io mi allontano un attimino E questi non sono braccioli Una bellissima armatura potentissima di TNT Prima piazza sta roba La vuoi? Ne posso creare una anche per te La vuoi l'armata? Non la vuoi? Non voglio essere un tuo complice In sta roba Allora siamo pronti? Ok Ho paura Aspetta che mi allontano Siamo pronti Vai No forse ce ne vuole una un po' più forte Che dici? Cioè ok che è esploso Ma qui a far esplodere il mondo Ci mettiamo una vita Steph Non arrabbiata Steph Perché la prima non ha funzionato bene Perché lo dici? Adesso ho capito come funziona Bisognava mettere il bottone E far esplodere questo E non ho messa molto in più Perché sai com'è? Ero arrabbiata E quindi ho detto Esageriamo un pochettino E vediamo che succede Sei pronto? Ok vai sopra una tenetifere Perché? Eh perché ho imparato una piccola cosa Io nel far west Vai 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 Aziona Aziona L'ho azionato E ho tutto bloccato In questo momento A me non è successo nulla Ah sì Cioè siamo crashati? Sì più a meno Io sto volando nel cielo Tu non mi vedi Ma io in quel momento Sto volando nel cielo Stiamo bene Ok Stai volando anche tu Stai per volare Sono in fin di screen Ok Forse è crashato tutto Ti vedo volare È stato bello vero? Dai che ti sei divertita E ammettino che ti sei divertita Non ho visto nulla Cos'è stato divertente? Io più o meno Allora ho visto praticamente Blackout Ok Poi mi sono vista fluttuare in cielo E poi di nuovo in terra Ok Questa è stata la mia esperienza Cioè hai fatto un danno incredibile Fede Ci sono cascate di acqua E di lava in giro Con tutto bucato Ragazzi Ciao 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 Ciao